Siete pronti per un'avventura indimenticabile in Thailandia? Oggi vi svelerò 5 informazioni cruciali che dovete assolutamente conoscere prima di pianificare la vostra vacanza in questa terra ricca di cultura e bellezze naturali. Clima tropicale. La Thailandia ha un clima tropicale con tre stagioni principali, stagione secca, stagione calda e stagione delle piogge. Prima di partire, assicuratevi di conoscere la stagione in cui viaggiate, in modo da preparare l'abbigliamento adeguato e godervi al massimo le vostre attività, regole d'ingresso, per entrare in Thailandia, assicuratevi di rispettare le regole d'ingresso. Al momento della mia registrazione, è richiesto un visto turistico, quindi verificate i requisiti e assicuratevi di avere tutti i documenti necessari prima della partenza per evitare complicazioni all'arrivo. Rispetto per la cultura e la religione, la Thailandia è una terra ricca di tradizioni culturali e spirituali. Quando visitate templi o luoghi sacri, assicuratevi di indossare abbigliamento adeguato, coprendo spalle e ginocchia. Il rispetto per la cultura e la religione è fondamentale per vivere un'esperienza autentica e rispettosa. Comportamento locale, il comportamento in Thailandia è incentrato sulla cortesia e il rispetto reciproco. I thailandesi sono conosciuti per la loro gentilezza e ospitalità, quindi cercate di comportarvi con rispetto verso la popolazione locale. Evitate di toccare la testa di qualcuno, poiché è considerata la parte più sacra del corpo. Cibo di strada e igiene. La cucina di strada in Thailandia è deliziosa, ma assicuratevi di scegliere posti puliti e igienci. Bevete solo acqua in bottiglia. Evitate il ghiaccio nei drink e godetevi i sapori autentici del cibo di strada in modo sicuro. La Thailandia è famosa per la sua gastronomia, quindi esploratela con curiosità, ma con attenzione alla vostra salute. In conclusione, preparatevi a immergervi in un mondo di bellezze e tradizioni in Thailandia, ma con rispetto e consapevolezza. Questi cinque consigli vi saranno utili per vivere una vacanza indimenticabile e immergervi completamente nella magia di questo straordinario paese. Buon viaggio e scoperta della Thailandia!